Hey! Stanno arrivando le lezioni live su Twitch! Visto che voi bestie siete sempre alle strette con lo studio e avete un sacco di domande, dal 2 dicembre alle 16 iniziano le lezioni in diretta su Twitch. Trovi il link alla pagina in descrizione, altrimenti puoi cercarmi su Twitch come Step by Step Fisica. Due volte a settimana dalle 16 alle 17.30, lezioni su magnetismo, induzione, onde e suono per iniziare. Questo è il calendario delle prime 4 lezioni, lo trovi anche in descrizione e sulle mie pagine social. Ti aspetto e avvisa anche i tuoi compagni di classe. Ciao!